quello che sembra non è è meglio ovvero giudicate un po' voi questo ha la forma del microtech soccom 2 un coltello un frame lock completamente in titanio con bulleria in titanio backspace in titanio analizzato blu e lama in d2 scavata per alleggerla con una forma di bisellatura assolutamente oserei dire spaziale arriva al rasoio è uno dei coltelli più belli su cui abbia messo le mani io vi assicuro che se volete un microtech originale ve lo posso procurare e questo vi assicuro che è meglio meglio perché io io capisco che è un titanio che potrebbe essere diverso ma vi assicuro che è titanio di livello 4 tc4 titanio ma non è solo quello è il fatto che c'è stato un grandissimo lavoro dietro questo chiudibile qui ed è un lavoro ben eseguito vi assicuro è ancora sporco d'olio ed è veramente molto molto bello ergonomia eccezionale chiusura impeccabile perfettamente centrato 156 grammi spessore 3.88 mm 4.9 nella parte più spessa al bisello 2.16 i liners sono in acciaio scusate in in titanio e i washer sono di bronzo lo spessore dei line sono 1.68 mm tutta la bullioneria diciamo è completamente titanio con una chiave sua dedicata della microtech tra l'altro questa chiave e vi assicuro che l'assemblaggio è perfetto impeccabile la clip è anch'essa in titanio ma è molto molto gestibile un contello bellissimo il lavoro qua dietro dietro questa lama è eccezionale è veramente molto molto bello io vi assicuro che a farsi un pensiero con questo è tutto ragazzi alla prossima grazie a tutti Grazie.